Qui abbiamo Pat, Woodman Base 2024, giugno. Cosa ti è sembrato di queste due giorni? E' molto intensa come esperienza, più intensa di quella che mi aspettavo. Comunque sono molto soddisfatto. Stanco ma soddisfatto. Quindi sommariamente positiva? La consiglieresti? Certo. In due parole, giusto così veloce, cosa ti porti a casa? Mi porto a casa la capacità, quello che ho imparato è nella gestione dello stress, delle situazioni stressanti, difficili, imparare a stare concentrati, a tenere conto di tutti gli aspetti importanti, tipo accendere un fuoco, l'importanza di un fiammifero. Questa è una grande cosa. Nella nostra vita quotidiana il fiammifero è una cosa insignificante, lì sulla montagna quel fiammifero significava vita o morte. Preparazione degli istruttori come ti è sembrata? Molto, molto positiva, molto buona, molto preparati, molto professionale. Ti ringrazio. Grazie. Grazie. Grazie.